Ad Estato Scalpore, in città, l'accoltellamento di ieri a un giovane di 21 anni, MR, le iniziali di origini pugliesi, già noto alle forze dell'ordine e peraltro agli arresti domiciliari per reati connessi alla droga, avvenuto in pieno giorno, poco prima delle 13, nell'area di Colle Sapone, dove si concentrano alcuni istituti superiori cittadini e una scuola media. Il giovane, secondo una prima ricostruzione dei fatti, è stato colto alle spalle e ferito a un fianco e alla schiena, portato in ospedale con codice rosso, ma non è in pericolo di vita, sottoposto a una dedicata operazione chirurgica effettuata all'ospedale San Salvatore. Dopo l'accoltellamento si è rifugiato nel bar poco distante della fermata del bus, dove è accaduto il fatto, cercando di tamponare la ferita e chiedendo ai baristi qualcosa di caldo da consumare. Sul posto sia polizia che carabinieri, ma procede la prima nelle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e sono in corso ancora degli accertamenti. Sono state fermate inizialmente due persone, ma poi le telecamere di sorveglianza hanno scagionato un minorenne aquilano e messo nei guai solo un 16enne marocchino, entrambi non sono studenti. La lite è avvenuta vicino alle pensiline della fermata degli autobus, proprio dinanzi all'itis, culminata con la coltellata inferta al giovane. L'ennesimo episodio violento è ancora più preoccupante perché è accaduto in una zona dove ogni giorno si riversano gli studenti aquilani e spesso oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine per prevenire anche episodi di spaccio. Si sospetta infatti che alla base dell'aggressione ci sia proprio una sorta di regolamento dei conti per lo spaccio di droga. Si è iniziato col procedere per tentato emicidio, capo di imputazione che però può cambiare in base alle condizioni del 21enne che stanno via via migliorando. Sembrerebbe pure, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, che gli attori di quest'ennesima rissa fossero stati già coinvolti in un altro episodio violento in città a fine agosto. La polizia è intervenuta subito. Ieri è riuscita a rintracciare immediatamente il ragazzo marocchino e il ragazzo aquilano che sono stati portati in questura interrogati alla presenza del procuratore del Tribunale dei Minori, David Mancini, dalle immagini è risultato subito che il ragazzo aquilano fosse strano all'aggressione.